Tenga, signore, grazie, grazie, grazie! Solo lo butti via! Ah, l'ha buttato via. Ah, lei è uno sporcaccione! D-I-O! Non ci ignorate! Non siete interessati, d'accordo, d'accordo. E lui? Vai così, vai così! Non ho il tempismo giusto. Guarda qua! Sì, bingo, bravo! Sto prendendo da solo, ci ho messo un po' di sentimento e va meglio. Muovili, muovili! Sì, che vai bene! Sì, provo a sciogliermi ballando. Prego. Nasce a stare. Va bene. Ehi, qualcuno ha voglia di ascoltare il messaggio di Dio? Signore, ciao ragazzi, non avete più fede? E se aveste più fede... Ma lo f***o al culo. Imbecillo. Non hanno gradito, non hanno apprezzato. Chi vuole parlare di Dio? Qualcuno vuole parlare di Dio?